Ciao ragazzi, mi chiamo Daniele Nicastro e sono qui per leggervi alcune pagine di una storia incredibile. Il protagonista è un cane che alla fine degli anni 50, pensate un po', aveva imparato a viaggiare in treno. Viaggiava da solo, senza biglietto e senza accompagnatori. Ancora adesso ci interroghiamo su come facesse a riconoscere le fermate, a prendere le coincidenze, era un cane straordinario. Il suo nome era Lampo e sono sicuro che forse i vostri nonni o i vostri genitori si ricordano la sua storia perché Lampo ha vissuto in Toscana. Il suo giaciglio era nella stazione di Campiglia Marittima, una piccola stazione a poca distanza da Piombino. I ferrovieri erano la sua famiglia. Non voglio dirvi di più, ve lo faccio vedere, eccolo qua, Lampo, il cane ferroviere per il battello a vapore, e ho scritto questa storia raccontando un periodo particolare della sua vita e romanzando alcune delle vicende storiche realmente accadute. Ecco qua, il primo capitolo. Severino Zichella ha 72 anni. Una chioma a ciocche che un tempo doveva essere stata nera e una scarpa vecchia in mano. Arranca verso la stazione sbuffando come una caffettiera. L'afa che sale dall'asfalto è insopportabile. Ogni tanto si asciuga la fronte sudata e sistema le bretelle. Sta per raggiungere l'ombra della sala d'aspetto quando un'auto sportiva gli si accosta rombando. Che fine ha fatto il mare, nonno? Gli chiede un giovane in occhiali da sole e braccio tatuato, sporgendosi dal finestrino. Severino abbassa la testa e saluta con un cenno la ragazza bionda sul sedile del passeggero. Guarda i piedi appoggiati al cruscotto. Da qui non si vede neanche col binocolo, dice indicando con la scarpa il cancello blu alle sue spalle. C'è scritto Campiglia Marittima. Di marittimo c'è solo il nome. Acqua, sabbia e scogli sono a chilometri di distanza, se non è cambiato niente. Allora perché si chiama Marittima? Non lo so. Io non sono di queste parti. Il giovane solleva gli occhiali sulla fronte. Squadra l'uomo dalla testa ai piedi, soffermandosi sulla scarpa consumata che agita in mano. Il tacco penzola da un lato, la suola è bucata. Andiamocene, gli sussura la ragazza. Ti lasciamo andare nonno, se no perdi il treno. Grazie, ma non devo prendere il treno. Vado in stazione a trovare un vecchio amico, sorride lui. Un sorriso lieve di quelli che si rivolgono a chi ha fatto un commento ingenuo. Comunque, per il mare basta tornare indietro sulla via Aurelia e prendere il cavalca ferroie delle Caldanelle, se c'è ancora. L'auto riparte sgommando. Severino rimane a guardarla finché non scompare dietro un filare di lecci. Poi, invece di entrare nella sala d'aspetto, infila un passaggio laterale che conduce direttamente alla pensilina del binario 1. Dalle traversine, tra le rotaie, si diffonde un fastidioso odore di catrame bruciato. Sotto la pensilina qualche viaggiatore sonnecchia sulle panchine, altri fissano lo smartphone. Il capo stazione rientra nel suo ufficio sventolandosi col cappello. Severino raggiunge il bar, ma, invece di entrare, si ferma tra gli alberi del giardino. Accovacciato nell'erba, un cane di pietra lo osserva con espressione bonaria, la zampa anteriore destra sollevata. Lampo, cane viaggiatore, c'è scritto sulla base. Ne è passato di tempo, eh, vecchio amico? Dice l'uomo. All'improvviso sente soffiare, dritto davanti a sé. Allunga il collo oltre la statua e vede un ragazzino in pantaloncini e maglietta seduto per terra, che mormora denti stretti e scalcia forte i piedi. Sul marciapiede schizzano pietre e fili d'erba. Che cos'ha da guardare? Si gira di scatto. Preso alla sprovvista, Severino si gratta la nuca con la mano sbagliata e finisce per darsi una scarpata. Ai! Non distingo più la destra dalla sinistra, sono un vecchio rimbambito. Il giovane fa per dire qualcosa. Poi cambia idea. Guardavo il cane, non te, spiega l'altro. Stupido cane di pietra. Dove sono i tuoi genitori, giovanotto? Sono andati... non lo so. Vuoi dire che sei solo? Ti sei perso? Lui incrocia le braccia e si gira dall'altra parte. Severino non insiste. Immagina cosa gli sta passando per la testa spettinata. Un ragazzino nei guai desidera prima di tutto essere lasciato in pace dagli adulti. lo sa perché ci è passato anche lui tanto tempo fa. Smette di fare domande e si lascia andare con un gemito su una panchina lì vicino, appoggiando la scarpa accanto a sé. Riprende fiato osservando l'arrivo del regionale delle 13 e 32 proveniente da San Vincenzo. Guarda i vagoni con aria sognante. I treni gli piacciono, gli sono sempre piaciuti. C'è un che di magico nel viaggiare dritto sui binari verso una nuova destinazione. Il ragazzino si materializza alla sua destra facendolo sobbalzare. Si piazza davanti alla fontana e fa per aprire il rubinetto, ma le dita si chiudono nell'aria. Il rubinetto manca da anni e nessuno si è mai preoccupato di aggiustarlo. Il pozzetto alla base trabocca di sporcizia. È venuta via persino la vernice. Stupida fontana, esclama, e le rifila un bel calcio. A Severino scappa una risata. Il ragazzino lo sfida con lo sguardo, raggiunge la panchina con passo marziale e si butta a sedere accanto a lui, giovane e vecchio separati da una scarpa. Ci sono altre fontane? Chiede. C'è il bar qui dietro, se hai sete. L'insegna alle loro spalle, dice sale e tabacchi, e di fianco alla porta color bronzo si intravede un freezer coi gelati. Ho sete anch'io, dice Severino, rovistando nelle tasche dei pantaloni. Tira fuori il portafoglio. Facciamo un patto. Io metto i soldi, tu vai a prendere da bere. Scegli quello che ti va e a me porti un'acqua tonica. Ci stai? Il ragazzino fa una smorfia. Che c'è? Mica la devi bere tu. Il tempo di afferrare una banconota da 10 euro e la chioma nera del giovane sparisce oltre la porta. Due minuti dopo consegna all'uomo un bicchiere con le bollicine, le monete di resto e scuola tre quarti di coca cola attraverso una cannuccia. Si ferma solo per borbottare. Il bar era pieno di cartoline e portachiavi con l'immagine di quel cane. Stupido, stupido cane! Severino attende che il limone si mischi all'acqua tonica e finalmente si concede una lunga sorsata. I cubetti di ghiaccio tintinnano. Allora, come ti chiami? chiede. Elvio o di freddi, signore? Ah, lascia perdere il signore, ribatte con un gesto sfogliato della mano. Mi chiamo Severo, ma puoi chiamarmi Severino. Come faceva mio padre quando era ancora vivo. Ora che ci siamo presentati, puoi dirmi cosa ti è successo? Il ragazzo abbassa le spalle. Ho perso il treno, mi sono allontanato di nascosto per guardare la statua di lampo e... Il treno è partito, conclude il vecchio. Elvio annuisce. E i miei genitori, neanche un fiato, si sono scordati di me, presi come erano a discutere per le valigie. Hai già provato a chiamarli sul cellulare? Magari ne avessi uno. I miei dicono che a undici anni è presto. Loro non ce l'avevano e sono sopravvissuti. E così sono l'unico senza. Mi tocca tornare a casa per vedere le foto dei compagni e leggere i commenti. Sono sempre in ritardo. È assurdo. Posso prestarti il mio, si offre Severino. Le chiamate le fa ancora, anche se è un modello vecchio. Tieni. Il ragazzino osserva il telefono, allunga una mano per prenderlo, poi la ritrae e stringe il pugno. Il numero dei miei non ho mai avuto voglia di impararlo a memoria. Ce l'ho scritto nel portafoglio e... Il portafoglio è rimasto dentro lo zaino, insieme alle altre valigie. Insomma, non c'è niente da fare. Tutta colpa di quello stupido cane. Andrà tutto a posto, non ti preoccupare. È successo anche a me di perdere i genitori. Ah sì? E chi l'ha aiutata? Lo stupido cane, ridacchia Severino. E aiuterà anche te, garantito. Ma solo se ascolterai tutta la sua storia. Che è anche la mia, sai? Ne abbiamo fatte delle belle, Lampo e io. Il volto di Elvio si illumina. Ha perso il treno proprio perché si era incuriosito e avvicinato alla statua. Voleva saperne di più su quel cane. Che cosa ha fatto? Perché tra le zampe sono scolpiti un cappello e una paletta da ferroviere? È una storia lunga. Meglio se ti metti comodo, lo avverte Severino. Manda giù un'altra sorsata e schiocca la lingua. Dunque, per cominciare devi sapere che sono nato l'8 maggio 1945 a San Severo, in Puglia. È una data che conoscono quasi tutti. La chiamano giornata della vittoria perché segnò la fine della seconda guerra mondiale. Mia madre ci scherzò su per anni. Diceva che per lei la vittoria fu arrivare alla fine del parto. Non ne volevo sapere di uscire dalla pancia, sai? Ebbene, la storia di Lampo e me iniziò molti anni dopo, quando avevo più o meno la tua età. Lampo, il cane viaggiatore. Grazie a tutti.